Se dovessi dirla con una battuta, sono contento che la signora von der Leyen sia dimagrita nel corso del processo, nel senso che sono emerse le ambiguità e le contraddizioni nella Costituzione della Commissione a partire da quello che mi riguarda la vicepresidenza assegnata non solo e non tanto a Raffaele Fitto, che è una persona sulla quale non ho pregiudizi particolari, ma ho un pregiudizio, anzi ho un giudizio formato politico sul fatto che sia stata assegnata una vicepresidenza esecutiva, un esponente dell'ICR, cioè un partito della destra nazional sovranista e anche xenofoba a livello europeo, questo è un problema politico serio.